Nasce Dolomiti Nerd, un'associazione fondata da quattro intraprendenti giovani che hanno voluto dare casa ad appassionati di gioco di ruolo, tavolo e videogames, ma anche di tecnologia e mezzi di informazione. Abbiamo deciso di fondare questa associazione perché ci sembrava opportuno creare un punto di incontro per giovani e non qui a Feltre, qualcosa che unisse diverse passioni che vanno dal videogioco ai giochi da tavolo, alla lettura dei fumetti, allo studio, alla condivisione di conoscenze, anche a livello informatico. Si fa fatica a trovare un punto di incontro come questo e quindi abbiamo deciso di impegnare un po' le nostre energie e il nostro tempo per creare una realtà nuova che si spera possa coinvolgere quante più persone possibili. Abbiamo iniziato ormai sei mesi fa con questo progetto e i nostri sforzi sono ripagati anche abbastanza perché comunque nella sala principale la gente non stenta ad entrare, suonano in continuazione e continuano ad entrare per vedere cos'è, cos'è questa novità, chi sono quei matti che hanno iniziato a fare questo progetto insomma, anche perché a Feltre non è mai esistita una cosa del genere. Tante stanze tematiche, ad esempio ne abbiamo una dedicata ai videogiochi, sia a moderni che al retro gaming, abbiamo una zona dedicata alla lettura di fumetti, book crossing, tematico principalmente legato alla fantascienza e al fantasy, abbiamo un'aula studio, quella in cui ci troviamo adesso, in cui una persona può venire, studiare, disegnare, fare, magari studiare insieme ad altre persone, abbiamo una stanza dedicata ai giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi di carte e in più abbiamo un piccolo laboratorio dove ci sono dei computer, c'è una stampante 3D e ci sono altre attrezzature in maniera tale che le persone possano toccare con mano qualcosa di diverso e apprendere anche nuove competenze.